Musica Benvenuti ad un nuovo appuntamento con la voce del Consiglio, la trasmissione istituzionale a cura della redazione di RTV38 che si occupa dei principali temi trattati dall'Assemblea Toscana. In questa puntata in primo piano la sanità con l'assessore regionale al diritto alla salute Simone Bezzini che in aula in Palazzo del Pegaso ha risposto a due interrogazioni. Vediamo. Il progetto del Biotecnopolo di Siena e del Centro Nazionale Antipandemico Connesso sono al momento bloccati. Lo ha detto l'assessore regionale alla sanità Simone Bezzini rispondendo in aula ad un'interrogazione sul tema presentata dalla consigliera del PD Anna Paris. Siamo davanti ad una fase di stallo e di incertezza per il futuro, ha spiegato Bezzini. Serve un chiarimento perché si tratta di un progetto strategico non solo per la Toscana, ma per tutto il Paese. Come spiegato dall'assessore, il precedente governo ha deciso di far partire, nell'ambito del Biotecnopolo, il Centro Nazionale Contro le Pandemie, con investimenti previsti di oltre 300 milioni per allocare l'Hub, ma da mesi si assiste ad uno stallo dovuto anche alla decisione di modificare la composizione del Consiglio di Amministrazione e di nominare un nuovo presidente. Abbiamo lo statuto e non si è fatto ancora nulla. Ci sono in ballo tante risorse che risalgono alla finanziaria per il 22-24. Sul Biotecnopolo ci sono 340 milioni. Noi non sappiamo nulla. Noi siamo preoccupati e quindi io speravo che almeno su alcuni punti, l'interrogazione era abbastanza completa, sia informazioni di breve termine, sia informazioni a medio-lungo termine, perché i problemi... Ma non si sa nulla. E quindi la preoccupazione, a parte i rumors che ci sono in giro, che ci fanno essere più che mai preoccupati per spostamenti di questo centro, dove non è perché è Siena, io sono di Siena, ma c'è tutta una storia della Toscana, nel mondo delle biotecnologie e dei monoclonali. Ci abbiamo tutta un'attività di ricerca sui vaccini. Ecco, non si fanno nomi, ma Siena, Distretto, Firenze, Livorno, come ci ha ricordato l'assessore. E quindi che sta succedendo? Ancora non sappiamo nulla. Quindi non mi resta che dover di nuovo ripresentare questa interrogazione, visto che l'assessore ha capito, dice che avrà una call con il presidente della Fondazione Biotecnopolo di Siena. Bezzini ha risposto anche ad un'altra interrogazione presentata dai consiglieri di Italia Viva sulla scuola di specializzazione medica dell'Università di Siena, i cui corsi stanno riscontrando scarsa attrattività. La Giunta Toscana sta raccogliendo dati ed è al lavoro per cercare tutte le soluzioni possibili. Alla carenza di candidati per la specializzazione medica in chirurgia generale, ha assicurato l'assessore alla sanità. Senza la chirurgia e senza la qualità delle scuole di specializzazione in chirurgia non ha senso il sistema sanitario toscano. Cioè il sistema degli ospedali, il sistema sanitario si regge se la chirurgia funziona. È il cuore pulsante della vita degli ospedali e la carenza di giovani medici che vogliono formarsi nelle scuole di specializzazione toscane in primis in cuore di Siena è un problema serio, molto grave. Servono dei correttivi urgenti, serve verificare che la nostra qualità e quantità dei corsi di formazione sia adeguata rispetto al livello degli aspettativi della sanità toscana e serve valorizzare in molti casi anche le esperienze ospedaliere che ci sono di qualità diffuse nel sistema toscano. Molte volte c'è la pratica del vivere quotidiano, del lavorare, del crescere nella dimensione ospedaliera che molte volte non trova una sinergia con la dimensione universitaria. Serve un'amalgma di questi mondi e serve domandarsi se il modello organizzativo che da tanti anni in Toscana funziona con un'azienda universitaria ospedaliere sia un modello ancora cogente, puntuale e serva alla nostra regione. È un interrogativo che io pongo alla regione, lo pongo all'assessore Bezzini e incalzerò su questo aspetto perché ritengo opportuno che non soltanto chirurghi ma anche per esempio anestesisti e medici dell'emergenza urgenza vengano formati e si possa passare da quello che molti definiscono il numero chiuso a un numero programmato rispetto all'inserimento formativo dei giovani che poi sono il cuore pulsante della sanità in un sistema che deve puntare sulla qualità e sull'eccellenza. Parliamo anche di ambiente, in particolare del Parco della Maremma che ha ricevuto l'ok dall'Aula di Palazzo del Pegaso per quanto riguarda il bilancio. Tutti i numeri nel servizio. L'Aula di Palazzo del Pegaso ha approvato a maggioranza con il voto di astensione dei gruppi di centrodestra e il voto contrario del Movimento 5 Stelle il bilancio di esercizio per l'anno 2022 adottato dal Consiglio Direttivo dell'Ente Parco Regionale della Maremma lo scorso maggio. Nel conto economico relativo all'anno precedente il valore della produzione è pari a 2.368.000 euro il 12,57% in più rispetto al 2021 in aumento del 7,77% anche i costi della produzione. L'Ente Parco della Maremma si conferma una bella realtà un ente che ha un bilancio positivo anche se è stato un pochino inferiore rispetto ai momenti del Covid dove le persone erano ancora di più sul nostro territorio però il bilancio è positivo non soltanto dal punto di vista economico ma è positiva anche la programmazione che si pensa di fare all'interno del Parco Ente della Maremma. Quindi una splendida realtà che deve andare avanti e devo dire che oggi la discussione in aula ha portato delle lodi anche da parte dell'opposizione per come si pone per come è attrezzato e per quali sono anche i programmi di ampliamento sulla sentieristica che c'è all'interno del Parco. Con un'iniziativa intelligente a mio avviso della Presidenza della Commissione i membri della Commissione si sono recati sul posto quindi hanno potuto anche dar luogo a un sopralluogo a prendere un pochino anche atto di quelli che sono queste realtà svolgendo una commissione a contatto anche con tutti i riferimenti del territorio della Maremma quindi sindaci, presidenti di provincia insomma riferimenti di tutti gli enti istituzionali abbiamo verificato che intanto c'è un bilancio in positivo seppur forse da un certo punto di vista quasi troppo in positivo e quando c'è un bilancio molto in positivo di solito come abbiamo rilevato c'è anche un problema di programmazione però il Presidente del Parco ci ha rassicurato da questo punto di vista che così non è è una situazione un po' eccezionale di questo anno e quindi anche la gestione delle risorse tornerà ad essere diciamo programmata in modo ottimale quello che ci ha invece posto qualche dubbio è il fatto che non c'è stato lo abbiamo verificato il voto della comunità del Parco cioè la comunità del Parco non si è espressa anche qui il Presidente ha dato delle rassicurazioni facendo notare che è prassi come dire non intervenire però sotto questo profilo riteniamo che invece sarebbe utile che la comunità del Parco esprimesse e esercitasse quello che è il suo ruolo anche perché si potrebbe pensare eventualmente anche a una carenza di ruolo politico cosa che il Presidente ci ha escluso evidenziato questo però oggettivamente l'approccio ripeto è diverso da quello che troviamo negli altri parchi e il voto della Lega è stato un voto di astensione ed un altro tema affrontato dal Consiglio regionale è stato quello della pesca dilettantistica con una legge approvata a maggioranza che però ha fatto discutere l'aula di Palazzo del Pegaso con le opposizioni che non hanno ritenuto condivisibile questo tipo di provvedimento riguardante la gestione delle acque dare il 15% delle acque interne in concessione alle associazioni di pescatori per le attività dilettantistiche la legge che interviene sulla gestione delle risorse ittiche e sulla regolamentazione della pesca nelle acque interne è stata approvata a maggioranza dal Consiglio regionale dopo un acceso dibattito ed una sospensione per mancanza del numero legale La legge vigente già esaltava una grande collaborazione con le associazioni sportive di pesca dilettantistica noi abbiamo voluto fare un passo avanti proponendo la possibilità alle associazioni di poter avere in concessione dei tratti di torrenti o fiume per valorizzarli al meglio attrezzandoli facendo in modo che siano popolati da fauna autottona e anche diciamo in modo tale che diventino anche veri e propri punti di attrazione turistica e in questo modo cercheremo attraverso un emendamento che è stato approvato in commissione che abbiamo concordato anche con le associazioni di pescatori intanto delimitato il margine da un 100% l'abbiamo portato al 15% quindi i tratti in Toscana in via sperimentale saranno il 15% del totale saranno diciamo così interessati da un bando che sarà gestito dagli uffici della ciunta e che avrà un titolo gratuito ma impegnerà diciamo le associazioni direttantistiche della pesca ad apportare diciamo attraverso un progetto vero e proprio di valorizzazione del valore aggiunto in questi tratti poi attraverso un altro emendamento che abbiamo inserito proprio all'interno della commissione approvato in consiglio abbiamo previsto la gratuità di alcuni soggetti rispetto al pagamento di un eventuale diciamo permesso aggiuntivo rispetto alla licenza della pesca e che sono i ragazzi sotto i 12 anni i portatori di handicap e gli over 70 è veramente una cosa impensabile che chi fa pesca un'attività sportiva una passione debba pagare il tesserino più debba pagare a un'associazione la possibilità di poter pescare in un tratto di fiume non è pensabile che si dica come loro hanno provato a dire i fiumi saranno così controllati e puliti perché non si parla di diciamo collocazione di un fiume intero ma di piccoli tratti quindi il fiume sarà comunque nelle altre parti non presi in considerazione dalle associazioni sarà comunque tenuto male come purtroppo lo è non sono tutt'oggi tutti i fiumi della Toscana e quindi non si risolverà nel problema di rischio idrogeologico non si risolveranno i problemi ambientali quindi non ci possiamo attaccare a questo questa è meramente una promessa fatta a una singola associazione di diversi iscritti ma credo che la politica non debba valersi soltanto sul consenso ma debba valersi del bene collettivo abbiamo votato contro abbiamo presentato e provato a presentare anche in commissione una serie di emendamenti che andassero in un'altra direzione purtroppo il Partito Democratico non ci ha voluto ascoltare ma non ha voluto ascoltare nemmeno tutte le associazioni che hanno scritto lettere dure di critica su questa proposta di legge ci sono alcune associazioni nazionali che sono tendenzialmente favorevoli rispetto a questa proposta altre più locali che invece temono una privatizzazione dei corsi d'acqua alla fine nel dubbio il PD ha presentato un emendamento che restringe al 15% il totale delle acque interne che si possono concedere in uso alle associazioni ma non si è capito dove vengano individuate né con quali criteri per cui può essere che in una provincia tutte le acque o la gran parte delle acque cadano in concessione e automaticamente tutte le altre no quindi avevamo posto a queste altre questioni anche legate per esempio alle necessità di iscriversi ad un'associazione per andare a esercitare la pesca magari un'associazione che esprime indirizzi ideali che un soggetto non condivide pertanto non abbiamo ritenuto diciamo di esprimere un voto perché ci sembrava doveroso tornare in commissione e chiarire questi punti perché l'esercizio della pesca è regolamentato ad oggi per legge si può anche capire la volontà di migliorare perché poi c'è un problema di fauna ittica di conservazione del patrimonio ambientale e autoctono rispetto a specie che vengono dall'esterno ma naturalmente questo va fatto rispettando i diritti di tutti a noi non ci è sembrato che questa legge fosse ancora sufficientemente sviluppata per farlo e quindi abbiamo ritenuto di esprimere non voto e ci riserviamo naturalmente di valutare insieme alle associazioni ulteriori proposte di modifica questi dunque erano i principali temi della puntata odierna della voce del consiglio l'appuntamento è ovviamente sempre su rtv38 per la prossima settimana per analizzare altri temi trattati dall'assemblea toscana grazie per l'attenzione e buon proseguimento arrivederci grazie a tutti